Ciao a tutti, benvenuti a Adria Formula Challenger, test per danese, Peugeot 106, A6, Almi Racing. E che Dio ce la mandi buona! Ok, equipaggio danese Zandona. Alla partenza. La birillata. Seconda birillata. Tormentone sinistro in due tempi. E il tormentone destro. E il tormentone destro. Vai la curva. E il tormentone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.